Romano! Sei un dio. Solo gli dèi possono condannare a morte un uomo. Armini. Barbaras Tirpenathus es. Tandeneis expert opus. Werumautem Roma. Reik! Vogliamo farci soggiogare dai romani? O vogliamo ribellarci? Alziamoci in piedi, tutti insieme! È della pace che abbiamo bisogno. Apri la voce! Ora basta! Non permetterò mai che il mio popolo sia ridotto in schiavitù. Puoi metterti contro Roma? Avete idea di quanto sia potente questo impero? Un barbaro non tradisce la sua gente. Passa dalla nostra parte. Mostreremo alla nostra gente che Roma non è invincibile. Per farlo dobbiamo riunire tutte le tribù. Questo è impossibile. A Roma mi hanno insegnato a dimenticare la mia famiglia, a odiare la mia gente, le mie tradizioni. Io sono stato uno di loro. Dato che io so come vivono, voi saprete come sconfiggerli! Combattiamo tutti insieme! Arriverà il lupo. E il mondo brucerà. Tutto deve finire prima o poi. La sua vita è la sua vita! Il mondo brucerà La sua vita è la sua vita! Si ci sono virgredzo da l'unione, Grazie a tutti